Buon sabato a tutti quanti voi, ben trovati a mattino 6, ultimo appuntamento della settimana con la nostra rassegna stampa che iniziamo subito con i quotidiani regionali partendo dal quotidiano Il Centro, andiamo a vedere le quattro prime pagine provinciali partendo da Pescara, questo è il titolo di apertura, Riviera Sud via a negozi ed uffici, il Consiglio di Stato dà ragione alla società Pescara Porto e dunque partono i lavori. Poi nelle cronache l'inchiesta sul mare, sempre nelle cronache di Pescara archiviata l'accusa di falso per il sindaco, da lunedì la selezione attiva in corsa 6 mila candidati per 61 posti e poi in Montesilvano il Consiglio ha bocciato la fusione con Pescara per quanto riguarda il progetto della grande Pescara. Ancora per la cronaca il maltempo mareggiata divora la riviera, danni sul litorale e allagamenti, cade un traliccio, tre comuni al buio. Poi a centropagina la fotonotizia con la fotografia di Gianluca Lapadula, l'anticipo che si è giocato ieri a Cesena tra Pescara e Cesena per la quindicesima di Serie B. Il Pescara stecca la prova di maturità decisivo l'ex Ragusa. Un colpo di testa di Ragusa lasciato colpevolmente solo dalla difesa biancazzurra su calcio piazzato del Cesena decide l'anticipo di B che valeva il quarto posto. Torreira viene espulso nel finale, l'allenatore Oddo non si nasconde, un brutto Pescara la sconfitta è meritata, quasi incredulo il presidente Sebastiani, sembravamo addormentati, ha commentato, un migliaio sono stati i tifosi al seguito dei biancazzurri. E poi nello spazio dedicato alle idee troviamo un articolo di Bruno Manfellotto, grande gioco al tavolo senza pagare, poi consulta aperta ai 5 Stelle, questo altro richiamo dal nazionale di Gianfranco Pasquino. Nel taglio basso della prima pagina troviamo come di consueto il Buongiorno Abruzzo firmato da Giuseppe Boi, un patto per l'Abruzzo su Instagram, questo il titolo dell'articolo. Andiamo a vedere anche sotto la testata del centro cosa propone il giornale, richiami dal nazionale e dagli esteri, ai ferricorti Mosca contro Ankara, sospesi i visti ai turchi e poi il processo, aggressione con l'acido, il PM 20 anni a Martina Levato. Cambiamo adesso edizione provinciale, andiamo a vedere la prossima prima pagina del centro che è quella dell'edizione di Chieti Lanciano Vasto. L'apertura è dedicata all'emergenza maltempo, in 15.000 senza acqua a Chieti, il nubifraggio fa franare la colonnetta e spacca la condotta, scalo all'asciutto, trignina, crollo un pilone, binari allagati a Casalbordino, fermi 22 treni. Dunque questo è un po' il riassunto dell'emergenza maltempo che ha colpito forse in maniera questa volta più forte proprio la provincia di Chieti. Scendiamo a centro pagina, virus blocca la teatreservizi, Chieti 20 computer in tilt per colpa di una finta mail del comune. Poi in Vasto i tartassati in 200 fanno ricorso contro l'autovelox e ancora lanciano sanità dietro front dell'AS sul trasporto dei malati. Cambiamo ancora prima pagina, andiamo avanti con la lettura del centro e adesso andiamo a vedere l'edizione Terramana. La bancaria ritrovata a Bologna, Tiziana Balducci, che era scomparsa lunedì, era in un centro commerciale bolognese. Dunque una buona notizia arrivata ieri nel tardo pomeriggio quando è stata ritrovata attorno alle 17.30 dalla polizia. Decisivo, come vedremo più avanti, è stato anche il telefono riacceso proprio dalla Balducci. A centro pagina, il primo assaggio d'inverno per quanto riguarda il maltempo, erosione sulla costa e blackout elettrici nell'interno. La prima ondata di maltempo della stagione fredda ha causato disagi in tutto il Terramano, dalla costa che vedete in questa fotografia abbastanza eloquente, alle zone interne dove si sono susseguiti blackout elettrici anche prolungati. Forte nevicati in montagne e proteste diffuse per lo stato della viabilità. Andiamo a vedere nelle cronache, in Terramo documento soft, ASL unica, il PD non vota più la contrarietà. E poi a Montorio doppia protesta per dire no all'autodromo in Roseto, tutti davanti alla tv per tifare la piccola Gaia che canta questa sera su Rai 1. Poi fallisce il furto con spaccate in Val Vibrata, ad Alba tentano il colpo in un tabacchi ma scatta l'allarme. Adesso andiamo a vedere anche la prima pagina della edizione aquilana del quotidiano Il Centro. Andiamo a vedere qual è il titolo di apertura scelto dal giornale. Cronaca giudiziaria in primo piano, cialente indagato. Non so perché, commenta il sindaco dell'Aquila che rivela l'avviso di proroga, l'ipotesi è quella di abuso d'ufficio sempre nell'ambito delle inchieste per quanto concerne il terremoto. Nelle cronache, gli azionisti, Banche Trudia ci ha rovinati, tornando al tema del salvataggio delle banche del Beilin. Ad Avezzano, Aule Alfredo, scuola occupata dagli studenti. All'Aquila, la sentenza col center paghi 15 ex dipendenti. E poi, porno ricatto da 500 euro a Sulmona, la richiesta alla vittima per non diffondere il video a luci rosse. E a centro pagina, la neve nell'Aquilano, Vindoli e Campo Felice, prime aperture per il Circo Bianco. Dunque non ci sono soltanto e fortunatamente disagi per quanto riguarda il maltempo, ma anche gioia da parte degli operatori turistici che vedono arrivare la neve e dunque possono dare il via alla stagione turistica invernale. Sciolina, Lamine e Solette si riparte. Già da oggi i comprensori di Ovindie e Campo Felice riattivano i primi impianti di risalita, anche se soltanto alcune piste saranno effettivamente utilizzabili. Le correnti degli ultimi giorni che si sono portate via, gli ultimi strascichi di questa lunga estate di San Martino hanno favorito l'arrivo delle precipitazioni e quindi della materia prima, cioè la neve. In alto sangro, progetto europeo per le piste più sicure. Infatti sono stati installati dei materassi per eventuali uscite di pista e cadute. Adesso andiamo sul messaggero e andiamo a vedere anche la prima pagina dell'inserto Abruzzo del quotidiano romano. Titolo di apertura, terremoto, indagato Cialente. Il sindaco dell'Aquila ha annunciato lui stesso la notizia del prolungamento dell'inchiesta. Si tratterebbe di lavori post-sisma effettuati nella sua abitazione. I suoi legali dicono che tutto si sgonfierà. E poi, sempre restando alla cronaca giudiziaria, Pescara, il caso sversamenti, Alessandrini. L'inchiesta si sdoppia. La carella più politica che giudiziaria sulla mancata informazione del divieto di bagnazione che ha tenuto banco, lo ricorderete, per gran parte dell'estate, si chiude dal punto di vista giudiziario con una sorta di doppio binario, un'inchiesta che in sostanza si è sdoppiata. I sostituti procuratori, Anna Rita Mantini e Mirvana Di Serio, ieri, hanno fatto notificare due diversi atti destinati al sindaco di Pescara, Marco Alessandrini, al suo vicenzo del Vecchio e al dirigente Vespasiano. Andiamo a centropagina adesso con la fotonotizia che riguarda il maltempo. Sulla costa e nell'entroterra è scattata l'emergenza, crolla un ponte, regione divisa e danni. Ondata di maltempo colpisce la regione, come abbiamo già visto, danni ed allargamenti a Pescara. Nel Chietino strade interrotte, scuole chiuse per neve all'Aquila e cede il ponte sulla Trennina causando cause e disagi alla circolazione. Sempre a centropagina, perdonanza e UNESCO intoppi sul traguardo. La Commissione riunita in Namibia rinvia, smentita l'ingerenza turca, palla al governo per quanto riguarda il patrocinio dell'UNESCO sulla perdonanza. E poi di spalla una notizia di colore. Lorenzo Pucca, il talent show del più grande pasticcere pescarese, è arrivato nella finale del talent show. Andiamo a vedere sotto la testata del messaggero Abruzzo, il caso Bussi, ricostruzione blitz forestale, sequestrate oltre 400 pratiche. Assumona pedopornografia su una bambina tolta, patria potestà alla madre. Poi il calcio di Serie B, il Pescara KO a Cesena e Torreira viene espulso nel finale. Andiamo adesso sul quotidiano La Città, che è il quotidiano della provincia di Teramo, per vedere anche quest'altra prima pagina della nostra rassegna. Titolo di apertura ovviamente dedicato alla buona notizia del ritrovamento di Tiziana Balducci, che è stata trovata sana e salva a Bologna, la bancaria teramana di 54 anni, rintracciata dalla polizia in un centro commerciale a Casalecchio di Reno. E poi a centropagina l'altra notizia di giornata, cioè l'allerta meteo, neve e pioggia, soliti danni e disagi in regione, Abruzzo tagliato fuori dal maltempo. Questo è il titolo sulla fotonotizia di spalla. Martinsicuro, popolo del PD alla disperata ricerca del leader. A Mosciano, palpeggio una dipendente, viene condannato. A Giulianova invece si parla ancora della nuova caserma, già terminato l'idilio bipartisan, scrive la città. E poi sotto la testata, ancora nei richiami dalle notizie interne al giornale, a Teramo Vescovo e Iman pregano insieme per la pace. C'è domani l'incontro alla fratellanza artigiana e poi no alla ASL unica, passa la fronda PD, votato il documento anti D'Alfonso. Nel taglio basso, Pier Antoine Fabre, la rete globale, prima di internet, nelle lettere di Claudio. Acquaviva. E dunque abbiamo visto anche la prima pagina della città. Lasciamo i quotidiani regionali per aprire lo spazio dedicato al nazionale. Dunque andiamo a vedere le prime pagine nazionali. Questa è la prima del Corriere della Sera. La guerra fredda tra Erdogan e Putin. Tornano i visti le accuse. Mosca chiede le scuse ufficiali per l'abbattimento dell'aereo da guerra. Il del Sukhoi, Ankara, dice sempre la Russia, non scherzi con il fuoco. E poi a centropagina la fotonotizia che riguarda la celebrazione ieri delle vittime degli attentati terroristici del 13 novembre a Parigi, uccisi in nome di un dio tradito, tricolore marsigliese, il nuovo patriottismo francese. Poi un'altra polemica, questa volta interna al nostro paese. Poletti non vuole misurare il lavoro in ore. Il ministro, quel metodo è un attrezzo vecchio. Ovviamente i sindacati sono subito scesi sul piede di guerra, in particolare la CGL con la segretaria Camusso che protesta. Qui c'è gente che delira. Andiamo avanti con la Repubblica Terrorismo. Ecco il piano dell'Unione Europea, schedati i viaggiatori e il web. Queste le misure antiterrorismo. E poi ancora la polemica sul lavoro. Poletti basta con l'orario di lavoro. Il ministro è un attrezzo vecchio. L'ira della Camusso che dice è uno scherzo. I sindacati al liberismo sfrenato. Andiamo ancora avanti con la stampa Poletti. Anzi no, vediamo prima la fotonotizia. Putin, Erdogan e guerra fredda hanno all'incontro scambi d'accuse. Ancara si scusi, scherzate col fuoco. Mosca riduce i visti. E dunque è clima teso tra la Russia e la Turchia. E poi, come ha detto il lavoro, Poletti l'ora di lavoro parametro superato per i futuri contratti. È uno strumento vecchio, ha detto il ministro. La CGL ha commentato basta battute dal welfare al commercio imprese più veloci delle leggi. Andiamo avanti. Il sole 24 ore, il quotidiano economico. L'allarme delle imprese dell'Unione Europea a mantenere i dazi sulla Cina. Bruxelles apre alla revisione del sistema anti-dumping. E poi il terrorismo ancora in primo piano. Hollande annienteremo l'Isis. Putin, Erdogan, nuovo scontro. Renzi, prima delle bombe, una strategia sul dopo. Tre siriane arrestati ad Ancona con passaporti falsi. E poi le banche. Cambia il piano Bad Bank. Stop al vincolo unico di sistema. Si lavora per una garanzia individuale della COP. Andiamo avanti. Il messaggero. Russia-Turchia accuse e minacce. L'ira di Putin. Niente incontro. Prima chiedano scusa. Erdogan dice scherzate con il fuoco. Mosca ripristina i visti per Ankara. Renzi al vice di Obama. L'Italia è già in prima linea. Questo è un po' il riassunto di quanto sta accadendo in politica estera. E poi la cerimonia con Hollande che ha ricordato le vittime della strage di Parigi. Alla fine suona il va pensiero. E poi capitali in tilte per il vicepresidente degli Stati Uniti. Una notizia anche curiosa. Biden deve fare shopping. A Roma si blocca il centro. Torniamo a parlare di politica interna. Invece statali. Più facile licenziare assente isti e malati seriali. Il piano del governo. Poletti invece dice orario di lavoro strumento vecchio. Andiamo avanti. Il giornale arresi al califo. Natale chiuso per Islam. In una scuola milanese. Una festa spostata a gennaio. In nome della laicità. L'Occidente si sta suicidando. Questa è la lettura che dà il giornale. L'Europa aiuterà i migranti a denunciare i poliziotti scortesi. Libero. Non arrendiamoci. Più presepi. Meno imam. Un'altra scuola cancella la festa di Natale. Dunque la notizia è sempre la stessa. Dopo Parigi sarebbe una provocazione verso i musulmani. Ma rinunciare alle nostre radici cristiane vuol dire aver già perso la guerra con l'integralismo. E' inaccettabile. Questa è la posizione di Maurizio Belpietro. Andiamo avanti con il tempo. Il dossier sull'Islam radicale made in Italy. Oscuri centri culturali. Predicatori d'odio. Imam militanti. Lupi solitari. Nuovi jihadisti. Mentre Alfano chiude le moschee irregolari. Ecco la verità sui pericoli di casa nostra. E poi ecco i numeri del divertimento in Italia. In Troiti. Quanto l'agricoltura vale 71 miliardi. Il business della notte dunque. Un'inchiesta anche su questo argomento. E poi si torna a parlare ancora del Natale. Dopo i musulmani tocca agli atei. Mangiatoia vuota. Solo bue e asinello. Giuseppe Maria via dal presepe. Andiamo avanti. Il mattino. Apriamo e diamo una notizia diversa. Perché il giornale ovviamente pone in primo piano l'addio di Luca. Fa Napoli più sola. De Filippo, l'ultimo erede del grande teatro di Edoardo. Muore a 67 anni per una malattia fulminea. Figlio del grande Edoardo. Aveva introdotto da poco le repliche di Non ti pago. Cambiamo argomento tornando invece a centropagina sulle notizie dall'estero. Russia-Turchia. Scusate, ora le minacce. Putin ne rivede i visti. Erdogan chiede scusa. La replica. Lui scherza con il fuoco. Tensione alle stelle tra le due potenze. Asse usa Italia sulla sicurezza. Ad Ancona arrestati tre siriani per passaporto falso. Diamo il suo avvenire. Il viaggio del Papa invece sul giornale che fa riferimento alla conferenza episcopale. povero con noi e i giovani africani. Terra, casa, lavoro per tutti. Il fatto da una bidonvinda cheniana. Il Papa chiede di garantire i servizi essenziali. Il nuovo affondo sulla corruzione. E ovunque. Anche in Vaticano. Andiamo adesso sull'unità Italia Coraggio. Non ci faremo rinchiudere dalla paura. Renzi lancia due giorni di immobilitazione antiterrore tra Russia e Turchia che dovrebbero essere alleate contro l'ISIS e escalation di minacce. Poi a centropagina la fotonotizia. La Francia piange ma non si piega al terrore. Ovviamente il riferimento è alla commemorazione che c'è stata ieri delle vittime delle stragi di Parigi. Andiamo sul manifesto. Il silenzio degli innocenti. Con un lungo minuto di silenzio Parigi ha reso omaggio alle 130 vittime dell'attacco terroristico del 13 novembre. Uccisi in nome di una causa folle e di un dio tradito, ha detto Hollande nel suo discorso alla cerimonia ufficiale. Saremo spietati, ha concluso il Presidente della Repubblica Francese. E tra Russia e Turchia è guerra di nervi. Erdogan dice Putin gioca con il fuoco. Ancora, il pubblico impiego va in piazza, no al caffè amaro di Renzi, oggi a Roma, per il rinnovo del contratto scaduto da sei anni. E poi, sempre sui contratti di lavoro, Poletti apre un nuovo fronte con le nuove tecnologie. L'ora lavoro è un attrezzo vecchio, così ha commentato il Ministro del Lavoro. Andiamo sul Fatto Quotidiano, ultima prima pagina nazionale di Cronaca. Renzi in guerra con i suoi. Il fronte interno, l'ite del rio Lotti, battaglia sui numeri e sulle candidature. Andiamo adesso a centropagina. Il welfare modello Poletti, via l'orario di lavoro. Ottimo, ottimo e abbondante, generale ministro, questo è il commento che fa il Fatto Quotidiano. Andiamo adesso, restando sempre a nazionale, a vedere anche i quotidiani sportivi. Dunque, vediamo le prime pagine principali, partendo dalla Gazzetta dello Sport. Lavezzi a casa del campione argentino. Quanto mi manca l'Italia. Devo sentire la pressione che c'è in A. Qui a Parigi è diverso. Il vostro calcio ti fa sentire vivo, ti spinge a dare il massimo. Sarri e Mancini sono da scudetto, ma io tifo Rosario centrale. Ovviamente, l'attaccante argentino fa riferimento alle sue origini. Adesso restiamo sempre alla Gazzetta dello Sport, con il faccia a faccia Sinisa Montella, con Berlusconi in agguato. Andiamo adesso a centropagine. Viola dopo Basilea, che botte a Kalinic. Guardate le ginocchia. E poi, insignia Melo, menare Iguain. Cara Inter, prima devi prenderlo. Ovviamente ci sono le schermaglie prepartita. Miranda Murillo, trappola anti Pipita, ha già funzionato. E la Roma di Francesco bloccato per giugno, se Garzia fallisce. Andiamo avanti con il Corriere dello Sport. Il calcio vota Napoli. 50 esperti giocano il Big Match Inter-Squadra Tosta, ma prevarrà Sarri per quanto riguarda il sondaggio portato avanti dal Corriere dello Sport, che vede gli azzurri favoriti. Icardi sfida Iguain. Insigne vuole il gol. Dunque, ovviamente, fare i puntati sul Big Match di Serie A. E poi, Sinisa, senza scelta, deve fare tre punti. Milan-Sampa, San Siro. Gelo tecnico, Berlusconi. Ancora l'opinione, Allegri, la giravolta di Sacchi. Dalle dure critiche in TV alla folgorazione recente, c'è un solo stile vincente, il dibattito è aperto. Per quanto riguarda invece la Serie B, vola il Crotone, cadono Pescara e Salernitana. Ieri si sono giocati gli anticipi. Oggi Cagliari e Bari in campo. Andiamo a vedere anche tutto sport. Real vuole Morata, scordatelo. Vuoi Morata, scordatelo. La FIFA ferma gli Spagnoli per due finestre di mercato e così il diritto di recompra non spaventa più la Juve. Sotto la testata, Mia, se non vinci stavolta sei fuori. Stasera alle 20.45. Il match contro la Samp decisivo per il futuro di Mikhailovich sulla panchina del Milan. Berlusconi non transige sulla vittoria. E poi, muro contro muro, Napoli-Inter. E qui si sfidano le difese meno battute. Ecco come faranno a superarsi. Ancora, scendiamo nel taglio basso. Roma e Garzia, ora tiraria di ultimatum. Il tecnico deve portare un trofeo. E ancora, Siti, che foglie per Messi e Guardiola. Voci di accordo con l'allenatore. Poi, per quanto riguarda invece lo sci, vai Brignone, la fortuna ti vuole bene. Fede terza ad Aspen. E adesso ci fermiamo per il break pubblicitario e poi torniamo con la seconda parte di Mattino 6. Questa mattina non c'è il meteo con il nostro esperto Giovanni De Palma che è stato colto anche lui da una lieve influenza. Ovviamente gli facciamo il nostro in bocca al lupo per una pronta guarigione. E dunque, come detto, diamo la linea alla regia per il break pubblicitario e poi torniamo con la seconda parte di Mattino 6. E dunque, eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Torniamo alle notizie dalla nostra regione e ripartiamo dalla pagina Abruzzo del Messaggero. Emergenza maltempo. In primo piano, vigili del fuoco allagati, golene chiuse, allerta per il fiume, a Pescara, un albero crolla su un'auto a Porta Nuovo a pochi disagi. Sospiri dice e commenta gli interventi sono serviti. L'amministrazione risponde che sono stati fatti anche con i soldi tolti dal progetto della Duna. E poi, Roccaraso, neve alte, scuole chiuse, ferrovie e strade bloccate dai rami. Ancora, crolla il ponte, regione divisa a metà, trignina e rete ferroviaria interrotte per la furia dell'acqua, passeggeri bloccati nei treni e nelle stazioni, disagi e proteste. Il cedimento di un pilone ha annunciato l'emergenza, Anas e Polizia Stradale hanno subito dirottato il traffico. E qui vedete anche la fotografia del ponte che è crollato, il ponte sul Treste. E dunque, ovviamente, ci sono stati i problemi per quanto riguarda la viabilità. A vasto frana, bloccati nello studio medico, crolla il muro di un terrapieno che, travolgendo un'automobile e un'auto in sosta, sigilla in uno studio medico il dentista e alcuni pazienti, ovviamente, sono state ore di apprensione per quello che è successo. E poi il caso, il nodo stradale dei piedi d'argilla che fu rifatto appena sette anni fa. Il percorso più utilizzato dai camionisti per Molise e Campania di Pietro Ministro la ristrutturò. Ovviamente il riferimento è al ponte crollato sul fiume Treste. Andiamo nel taglio basso. Ancora emergenza maltempo, ma ci spostiamo a Chieti, città. Frane, chiusa la colonnetta e scalo senza acqua. Inagibile lo stadio che ha riportato allagamenti per quanto riguarda il tunnel che conduce agli spogliatoi. Anche il campo è completamente allagato e dunque è stato dichiarato inagibile dal comune. Andiamo adesso sul quotidiano Il Centro perché se ci sono i disagi per il maltempo ovviamente c'è anche chi gioisce per l'arrivo della neve. Parliamo degli operatori turistici. Ovindoli e Campo Felice aprono i primi sciatori. Impianti aperti in parte nei due comprensori. Campo imperatore in ritardo. Roccarasoremonia programma l'anticipo della stagione al 3 dicembre. A Teramo, Pratiditivo e Pietracamela aspettano invece l'Immacolata. Tutte chiuse le stazioni sciistiche nel Teramano. E poi, restando sempre allo sci, progetto europeo, alto sangro, piste più sicure con reti, materassi e cartelli, carrozzelle tecnologiche per l'accesso dei diversamente abili e sistemi elettronici per i povedenti, progetto di recupero dell'acqua per l'innevamento, dunque, diciamo, innovazione anche nel campo degli sport invernali. Poi, per quanto riguarda l'agricoltura, in questa finestrella agroambiente, via i pagamenti, la GEA, organismo pagatore della Regione Abruzzo, a seguito della richiesta della Direzione Politica Agricole, sta provvedendo a liquidare gli anticipi ai beneficiari della misura 2.1.4, pagamenti agroambiente del piano di sviluppo rurale 2007-2013. Andiamo avanti con la pagina Abruzzo. Interventi per le aree urbane e degradate, fonti regionali al 20%, bando del Governo, firmata l'intesa con 39 comuni, ieri all'Aquila, obiettivo riduzione marginalità e risanamento ambientale. Andiamo a vedere insieme il servizio. Un cofinanziamento per la riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane e degradate della Regione Abruzzo. Il Presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, nella sede inedita di Palazzo Fibbioni all'Aquila, insieme ai sindaci dei comuni abruzzesi, ha presentato l'opportunità di finanziare i progetti di riqualificazione che i comuni presenteranno in risposta al bando pubblicato già in cazzetta ufficiale e finalizzato proprio a sostenere i programmi e progetti di rigenerazione urbana e di rilancio delle zone più degradate. La Regione, praticamente, finanzierà con fondi propri fino alla percentuale del 20% del finanziamento richiesto a carico del fondo, non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 200.000 euro. La firma di questo importante protocollo, voi sapete, che ci consente la competizione per quanto riguarda la riqualificazione delle nostre aree urbane e stabilisce anche qual è il livello di coinvolgimento finanziario, amministrativo e progettuale di cui si fa carico Regione. Vi voglio anche, in attesa che arrivi il sindaco dell'Aquila, vi voglio anche dire che presto vi arriveranno comunicazioni grazie alle quali vi chiederemo anche di sorvegliare le realizzazioni della banda larga e ultralarga. perché negli anni 80 del 900, riconosco un ingegnere in fondo, si diceva che le opere che piacevano di più erano quelle che andavano nel sottosuolo, che non si misuravano. E così, ingegnere? Si diceva così con questo mondo. Io non vorrei che tutti questi investimenti che stiamo finanziando sulla banda larga e ultralarga non abbiano un'adeguatezza di controllo perché si realizzano in ogni dove. Quindi vi chiederò una speciale collaborazione, di misurazione di ciò che noi andremo a pagare. Andiamo avanti e torniamo sul giornale, sempre stando alla pagina Abruzzo del Centro. Ora tocca la Corte Costituzionale. La Cassazione dà il via libera ai referendum anti-trivelle. La Corte ha accolto i sei quesiti referendari, così come formulati e deliberati dai consigli regionali della Basilicata, dell'Abruzzo, delle Marche, della Campania, della Puglia, della Sardegna, del Veneto, della Liguria, della Calabria e del Molise. Ancora, settimana G Scuola, 8 mila studenti a lezione di cinema, arca spoltore da mercoledì al 4 dicembre. Giorgio Pasotti è uno dei protagonisti della settimana del cinema a G Scuola. Andiamo ancora avanti. Si affonda il progetto Penna Domo Ico, non ci sono i soldi. Turismo, i fondi regionali slittano e Barbara Ciarrapico rinuncia alla classe politica. I borghi non interessano, così ha commentato. E sempre restando ai borghi, Santo Stefano di Sessanio, post-sisma, chiusi i primi lavori, terminata la ristrutturazione degli edifici del Consorzio Progeo. Andiamo su Pescara adesso. L'intervento sulla Riviera Sud, la sentenza, uffici e negozi accanto al Cofa. I giudici sbloccano il progetto. Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso presentato dalla società Pescara Porto di Milia e Mammarella. Ribalta dunque la decisione del Tar, che aveva annullato i permessi per costruire e ora ripartono i lavori. Vedete anche qui il rendering del progetto. Andiamo avanti. Chiusa l'inchiesta sul mare, Alessandrini archiviata l'accusa di falso. Il sindaco resta indagato per omissione con Del Vecchio e Vespasiano per non aver vietato i bagni dopo gli sversamenti in estate. Il PM Mantini è di serio. Il Comune ha inviato per errore l'ordinanza mai emessa. Il giudice di fine. Il documento retrodatato è inefficace perché mai pubblicato. Alessandrini su Facebook dice Spiegherò tutto. Il sindaco ha commentato così sul proprio profilo la chiusura dell'inchiesta sul mare. L'ipotesi di falso in atto pubblico è stata già archiviata per infondatezza della notizia di reato. Resta ancora al vaglio dei PM quella dell'omissione. I processi si fanno nei tribunali. In quella sede spiegherò, ha detto il sindaco, le mie ragioni. Come è sempre fiducioso nell'operato della magistratura. E torniamo adesso sull'emergenza maltempo approfondendo quanto è successo a Pescara. Strade, case allagate, codice rosso per il fiume, stop al traffico in alcune vie e nelle golene, infiltrazioni nelle scuole e allo stadio. E ancora, il mare divora le spiagge e abbatte le concessioni danni ingenti per i titolari degli stabilimenti balneari su tutto il litorale cittadino. Luciani chiede 10 milioni di euro alla regione per mettere a riparo la costa per quanto riguarda Francavilla. Andiamo adesso a Spoltore. Acqua in classe, lezioni sospese, grondaie intasate causano infiltrazioni sui muri della scuola di via Bari a San Giovanni Tiatino. Transennati sotto passi ferroviari e per motivi di sicurezza è stata disposta la chiusura dei passaggi diventati pericolosi per l'acqua che ha allagato la carreggiata. Continuiamo la carrellata sui disagi provocati dal maltempo. Montesilvano, riviera senza auto, sotto passi bloccati e disagi in via Congo. Convocato una riunione del piano di emergenza per il pericolo e sondazione del Saline. A Caramanico cade un traliccio, tre comuni al buio e scuole chiuse. I tecnici Enel al lavoro tutto il giorno e la notte per ripristinare le utenze energetiche. Andiamo adesso sulla pagina di Chieti. Vediamo se riusciamo a recuperare rapidamente la pagina teatina del centro per continuare a parlare dell'emergenza maltempo perché ci sono stati disagi anche abbastanza gravi a Chieti città, rimasta senza acqua e ovviamente c'è lo stadio che è stato chiuso per inagibilità. Insomma buona parte della città è rimasta senza fornitura idrica, alcuni anche senza corrente. Dunque frana sulla colonnetta in 15.000 senza acqua, scrive il centro. Sondano, Alento e Pescara, L'Angelini è allagato, salta la partita di domani via con dell'Ara come un fiume, caos allo scalo per i tombini otturati. E qui vedete insomma le fotografie che sono abbastanza eloquenti. Ecco il tubo rotto risaldato durante la notte dai tecnici che hanno lavorato sul tubo rotto alla colonnetta. Il ponte sull'Alento invece è sparito in località Feudo e vedete anche qui la fotografia. Il foro rompe gli argini, le famiglie restano isolate, Ortona, Croce Rossa e Protezione Civile soccorrono anziani e bambini. La rabbia dei residenti costretti a rivivere lo stesso dramma di un anno fa. E poi ancora farmacia si stacca il controsoffitto, altro è allagato alla facoltà di lettere, all'istituto di Savoia e nuova emergenza. Un po' in diverse scuole si sono verificati dei problemi di infiltrazioni di acqua. E poi come vi dicevo allo stadio Angelini il tunnel dei calciatori sembra una fogna, vedete, completamente allagato dall'acqua. L'immagine è stata scattata ieri e il sindaco di Primio ha firmato l'ordinanza di inagibilità e dunque di chiusura dello stadio. E poi a Bucchianico, 300 studenti a casa, il sindaco De Leonardis chiude le scuole. Troppe infiltrazioni sono rischiose per i bambini. Adesso torniamo invece all'edizione di Pescara del centro. Torniamo appunto a parlare del capoluogo adriatico, chiudendo questa ampia pagina dedicata al maltempo, sul quale poi magari torneremo più avanti. Attiva, 6 mila in corsa per i 61 posti di lavoro. È scaduto giovedì il termine per accedere alla selezione degli operatori ecologici. Lunedì i primi quiz per individuare i 183 partecipanti alle prove pratiche ed orali. E poi mattatoio saltano i sei dipendenti della passata gestione. Condominio senza gas, 40 famiglie al gelo, l'amministratore di un palazzo di via Croce contesta al gestore l'interruzione del riscaldamento. Non siamo morosi, il servizio va ripristinato immediatamente. E ancora, Striano detto Sassà, l'ex camorrista rinato in Abruzzo. I crimini e il carcere, poi la nuova vita a Montesilvano, fino alla chiamata per partecipare al film Gomorra. Andiamo sulla pagina di Montesilvano, che boccia il progetto di fusione della Grande Pescara. L'Assemblea vota no all'esito referentario e lancia l'alleanza con Spoltore. Contrari solo i grillini, decisione demagogica. E poi Pianella, sfiducia a Marinelli, Giammai, i neoconsiglieri di maggioranza del PD bocciano D'Ambrosio. Tornando a Montesilvano, bilancio della Municipale, non si farà più la piscina, spiccioli per le scuole. Andiamo sempre a parlare di scuole, chiusura della maternità, un danno per Francavilla. Il consigliere di minoranza Alessandro Mantini critica il silenzio di Luciani sulla soppressione del punto nascita dell'ospedale Bernabeo di Ortona. Al Mumi, Lino Guanciale con il Chivanis per i diritti dei bambini, questa la serata al Museo Michetti. Andiamo ancora avanti. Ricostruzione, scatta il sequestro di oltre 400 pratiche sospette, questa è la pagina di Penne Popoli e dell'Alta Valle di Pescara. Secondo intervento della forestale in sette mesi nell'ufficio territoriale di Bussi e negli studi di progettazione dell'Umbria, con cinque perquisizioni e un nuovo indagato per l'inchiesta sulla corruzione. Appenne Vestina Gasso ora in vendita e il 12% cresce la quota dei privati, ma il Comune non cede tutto il pacchetto. Adesso andiamo invece sul messaggero, andiamo a vedere le altre notizie da Chieti e poi andremo anche alla pagina Aquilana. Luci di Natale fuori legge, maxi sequestro nel negozio, oltre 10.000 addobbi pericolosi trovati dal NAS, scoperti anche elettrodomestici illegali, assenti le istruzioni in italiano. E poi Di Stefano Sparazzero, ora aspetto le scuse, ieri il deputato si è sfogato dopo l'assoluzione nel processo rifiutopoli, si è tolto diversi essassolini dalla scalpa prendendosela con i media nazionali e regionali, a suo dire non hanno dato spazio alla notizia della soluzione, mentre avevano dato spazio alla notizia dell'inchiesta quando partì. La pagina di Lancianova Stortona, ambulanze, flacco duro, pagheremo Macchettoni, il direttore generale ha promesso il saldo per evitare interruzioni dopo le contestazioni da parte delle cooperative lancianesi che si occupano del trasporto con le ambulanze. A vasto, circonvallazione istoniense, partono i lavori della rotatoria e sempre a vasto, gestione rifiuti e commerci, temi del Consiglio Comunale. A D'Ortona, cambio di guardia alla Capitaneria, è arrivato il comandante Oliva, ieri c'è stata la cerimonia di avvicendamento. E poi apre Agroalimenta, che parte alla grande, con Senzi e Maio, regine del calcio. Andiamo adesso sulla pagina Aquilana, andiamo a vedere anche le notizie dal capoluogo. Lavori nella sua casa, Cialente è indagato, il primo cittadino ha diffuso la notizia sul suo profilo Facebook, nel mirino della Guardia di Finanza ci sarebbe la riparazione post terremoto. E poi le banche salvate con i nostri risparmi. Parla l'imprenditore che ha perso 250 mila euro in azioni ed obbligazioni. E qui vedete la foto della sede della Carichietti. Ovviamente non è il solo ad aver perso soldi in questa situazione di emergenza per quanto riguarda l'istituto di credito Tiatino. E poi piazza d'armi, una consulenza stabilirà se c'è truffa al comune. Progetto case, inquilini allergici alla raccolta differenziata. Scendiamo nel taglio basso, alta tensione tra il sindaco e il partito democratico. Il gruppo consigliare si schiera con Palumbo, questo per quanto riguarda la politica aquilana. E poi l'indagine, oltre alla droga vendevano armi, particolari inquietanti emergono sulla banda sgominata. Andiamo sempre, restiamo sempre all'Aquila, ma adesso parliamo della ASL Silveri. Il manager si dimette via dall'ASL a fine anno. Formalizzato l'addio ad Alfonso a Palazzo Fibioni. Decisione maturata da tempo, raggiunti gli obiettivi importanti. L'assessore Paolucci è stato corretto, ora decideremo cosa fare. Tra le ipotesi anche quella di non sostituirlo in vista dell'azienda unica. In caso di Vacazio il vicario diventerebbe l'attuale direttore sanitario. Poi sempre restando alla sanità, terapia del dolore, i questionari nelle farmacie. E poi scuole più funzionali, intesa per la ricostruzione. Ufficio speciale del cratere, cabina di regia tra l'Istituto Indire e la direzione regionale. Ancora sotto servizi, lavoro in via 20 Settembre. Ecco come cambia la viabilità, completamento anche in via Sallustio. Per quanto riguarda le polemiche, edificio Carispac, la replica di Carbonara e poi Fontana Luminosa. I restauri continuano. Adesso andiamo sulla città, andiamo a vedere anche le notizie dal Terramano. E dunque apriamo il quotidiano della provincia di Teramo. E troviamo in primo piano la notizia del maltempo, che ovviamente ha provocato problemi in tutta la regione. E anche nel Terramano, soprattutto lungo la costa, che soffre, come sempre, dei problemi riguardanti l'erosione. Ma andiamo avanti. E arriviamo alla buona notizia di ieri, cioè il ritrovamento di Tiziana Balducci, ritrovata sana e salva a Bologna. La bancaria Terramano è rintracciata dalla squadra mobile di Teramo in un centro commerciale a Bologna. E vedete qui in questa grafica la ricerca che è stata effettuata dagli uomini della polizia tramite il telefonino. Lunedì sera a Teramo l'ultimo avvistamento della donna. Poi il telefono che viene riacceso a Roma è individuato a Bologna, dove poi è stata ritrovata Tiziana Balducci. Andiamo a vedere un po' altri dettagli. Stavolta la differenza, scrive la città, l'ha fatta la squadra mobile di Teramo, che con l'autorizzazione della procura ha utilizzato gli strumenti tecnologici migliori per raggiungere l'obiettivo. Tiziana Balducci è stata ritrovata sana e salva ieri sera attorno alle 18 all'interno di un grande centro commerciale di Casa Lecchio di Reno, comune satellite della periferia di Bologna. Si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda della 54enne impiegata di banca, moglie e madre, scomparsa lunedì sera tenendo in apprensione l'intera provincia di Teramo. Proprio quando il fattore tempo iniziava a far pensare al peggio e si preparavano gli elicotteri di ricerca, poi rimasti a terra a causa del maltempo, la donna è stata rintracciata grazie al lavoro costante degli agenti della mobile di Teramo coordinati dal vicequestore Gennaro Capasso, che nelle ultime ore erano riusciti a risalire ai suoi spostamenti. Una ricostruzione arrivata anche grazie al segnale GPS ed email del telefono cellulare della donna, che dopo giorni di silenzio era tornato attivo in almeno due occasioni indizi che hanno permesso alla polizia di risalire ai suoi spostamenti, passando per la capitale fino ad arrivare alla cittadina bolognese. La donna, una volta trovata, è stata trasferita alla questura di Bologna, dove è stata raggiunta dai figli e dal marito Roberto Faragalli, partiti da Teramo, non ha appena ricevuta la bella notizia ed è stato lo stesso marito a pubblicare i primi ringraziamenti su Facebook dopo averlo utilizzato per lanciare il primo appello dopo la scomparsa della donna. Andiamo ancora avanti, come detto si torna a parlare del maltempo, l'abbiamo visto in precedenza nella pagina Abruzzo, ora lo vediamo anche nella pagina Teramana, resta bloccato in macchina durante la bufera di neve, Pratiditivo è rimasto al freddo per tutta la notte in attesa che qualcuno lo salvasse e tirarlo fuori dalla neve un passante con il suo fuoristrada. Ovviamente in montagna sono state copiose le nevicate, piogge e neve, allarme arancione per la portata dei fiumi anche in provincia di Teramo, poi ci sono state anche delle polemiche con i cittadini delle aree interne che hanno attaccato la provincia per i ritardi, solo ieri mattina è stato attiviato il piano neve in anticipo rispetto a quanto previsto, la data fissata infatti era il primo dicembre. Andiamo ancora avanti e passiamo alla politica, notte fonda nel PDL passa la sfida ad Alfonso, sia all'ospedale unico provinciale, no all'as l'unica regionale, il documento passa in extremis per 19 voti a 5. E poi per quanto riguarda le istituzioni, la regione vuole sentire il presidente rinviata alla proposta mercante per lo scioglimento del BIM. Cattolici e musulmani pregheranno assieme domani alla fratellanza artigiana, si apre uno spazio di dialogo tra focolari e comunità islamica marocchina. Gli ospiti, il vescovo Seccia e l'imam Bazzami, prenderanno parte all'iniziativa domani sera. Romanelli dice no allo scippo di quattro scuole, Villaripa, Frondarola e Fornacicona inserite dalla provincia nell'istituto comprensivo di Torricella Sicura. Andiamo ancora avanti con le notizie. Pannella basta manfrine sulla Bernardini, leader dei radicali, rilancia la nomina garante dei detenuti e se la prende con la solita solfa partitocratica. Meglio di lei non ce n'è e non risulta nemmeno una sola valida alternativa alla sua caratura e candidatura, così ha detto il leader dei radicali ieri a Teramo. Adesso apriamo la pagina dello sport e ovviamente andiamo a parlare dell'anticipo che si è giocato ieri per quanto riguarda la Serie B ed il Pescara che purtroppo è uscito sconfitto dal Manuzzi di Cesena. Questa è la pagina dell'Abruzzo Sport del centro. La bocciatura, il Pescara fa scena muta all'esame di laurea, prestazione deludente. L'ex Ragusa punisce una dormita della difesa su calcio piazzato. Primo tempo praticamente regalato dai biancazzurri. Fisicità e intensità di gioco hanno fatto la differenza, scrive Rocco Coletti. Pescara che aveva al seguito un foltissimo numero di tifosi, lo sbarco dei mille tra piadine, cori e bandiere. Viaggio fuori e dentro il Manuzzi con la mini-invasione dei sostenitori biancazzurri. In tribuna anche Tassotti, capo degli osservatori del Milan e Zaccheroni. Prima di vedere il servizio andiamo a vedere gli altri anticipi di ieri. Spezia Crotone finita 0-1 e Salernitana Provercelli 1-2. E' dunque la vittoria della Provercelli. E dunque andiamo a vedere insieme il servizio della partita realizzato da Paolo Renzetti. Un Pescara sottotono esce sconfitto dal Manuzzi di Cesena al termine di 90 minuti che hanno visto la supremazia dei romagnoli che sono riusciti a conquistare i tre punti con il gol dell'ex dal dente avvelenato Antonino Ragusa che ha servito la sua vendetta fredda in apertura di gara. Pescara da rivedere in una sfida caratterizzata da diversi errori in difesa e da una scarsa vena offensiva di Lapadula e compagni. Si comincia con le formazioni annunciate della vigilia e con una temperatura polare a scaldare la serata del Manuzzi 13.000 presenti sugli spalti in Curva Nord oltre 1.000 i tifosi giunti dall'Abruzzo. Nel Pescara Gianluca Caprari reduce da qualche sintomo influenzale e regolarmente in campo fra i bianconeri Magnusson gioca al posto di Capelli al centro della difesa. In avanti punta centrale proprio lui, l'ex Antonino Ragusa. L'altro ex pescarese Cascione in panchina. Avvio di gara equilibrato con le due squadre molto prudenti. Al nono c'è una punizione per i biancazzurri dai 25 metri con Capitano Memushai che alza di poco sopra la traversa. Al decimo la risposta locale dopo una mischia di Ragusa che in area piccola vede la sua conclusione deviata in calcio d'angolo. Poco dopo arriva una punizione di Sensi che mette in area una palla perfetta per Ragusa che sul filo del fuorigioco di testa indisturbato mette in rete per l'1-0. Gara subito in salita per la squadra di Massimodo che impiega qualche minuto per riorganizzarsi. Il Cesena preve e fa male al Pescara anche al 26esimo con una parata in due tempi di Aresti su Sensi. La squadra di Drago è indiavolata e al 28esimo Cone si divora davanti ad Aresti il gol del raddoppio. Il Pescara fa fatica a proporsi pericolosamente dalle parti di Gomis ed è costretto a provarci dalla distanza come accade al 40esimo quando Caprari mira l'angolino mandando la sfera al lato di un soffio. Ancora Pescara al 43esimo con una punizione di Caprari che chiama alla parata Gomis con i pugni. Nella ripresa si ricomincia con Torreira al posto di Mandragora e Succi per Garitano. All'ottavo Caprari chiama il salvataggio Gomis prima della parata con i piedi di Aresti su tiro di Sensi. La gara vive di continui capovolgimenti di fronte così al quarto d'ora e che si a chiamare Aresti al Miracone in angolo. Passano due minuti e la Padula trova il pareggio ma in posizione di fuorigioco. Oddo getta nella mischia anche Cocco al posto di Benali con Ile Cesena che si rende però pericoloso in due minuti prima con un tiro di Perico al lato e poi Cone che fallisce dopo uno brutto stop di Zampano al trentesimo il gol del raddoppio. Il Pescara manda in campo anche Valoti ma le cose non cambiano ed anzi arriva l'espulsione di Torreira per doppia ammunizione. Dopo sette minuti di recupero arriva così il triplice fischio finale di Maresca di Napoli e così un'altra sconfitta per il Pescara chiamato ora al riscatto nella sfida di sabato prossimo all'Adriatico contro lo Spezia. Brutta prestazione del Pescara anche nelle parole del tecnico Massimo Oddo come vedete dalla pagina del centro anche il presidente Sebastiani diciamo sorpreso dalla prestazione dei Biancazzurri ha commentato sembravamo addormentati e dunque andiamo a vedere assieme le reazioni del dopogara nelle interviste di Enrico Rocchi. Cosa poteva fare di più il Pescara davanti a questo? Cesena che ha creato tantissimi. abbiamo fatto tutto quello che non dovevamo fare o meglio non siamo riusciti a fare quello che dovevamo fare purtroppo è stata un'altra di quelle prestazioni in cui noi purtroppo se non giochiamo raccogliamo poco Cesena c'è stato superiore sul piano fisico arrivano sempre prima sul piano del palleggio sono convinto che non siamo assolutamente inferiori anzi cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno giochiamo male abbiamo perso 1-0 se avessimo giocato da Pescara sono sicuro che non sarebbe finita così oggi male tutto abbiamo iniziato male abbiamo preso un gol come al solito evitabile non c'è stata reazione c'era mancanza di serenità non lo so perché questa è una squadra che la settimana prima sembra Real Madrid la settimana dopo sembra non lo so insomma Mastica Amaro Massimo Oddo andiamo avanti ma restiamo sempre alla serie B passiamo a parlare della Virtus Lanciano Biondi arriva il Latina il Lanciano va all'assalto tre punti per non affondare ancora fuori a mente Ferrari in avanti Padoan favorito su Marilungo i rossoneri devono vincere per non perdere ulteriore contatto dalla zona salvezza il successo manca dal 17 ottobre scorso 1-0 contro il Como andiamo a vedere le probabili formazioni per quanto riguarda la partita che si giocherà alle ore 15 arbitra Aleandro Di Paolo di Avezzano il Lanciano con Casadei in porta Pucino Aquilanti Riggione Mamarella in difesa Vastola Paghere Di Cecco a centrocampo Zeduardo Piccolo e Padovan in attacco il Latina risponde con Farelli in porta Calderoni Esposito della Fiore Brusca Gin in difesa Moretti Schiattarella Ammari Olivera e Acostì a centrocampo e Corvia davanti diciamo a fare da pivò andiamo andiamo avanti andiamo avanti con 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 il calcio scendiamo in Lega Pro per parlare del Teramo Vivarini torna al passato sarà 3-5-2 contro il Siena partita diciamo da clima teso quella del Teramo che ospita il Siena il tecnico io e il mio staff non dormiamo la notte per trovare una soluzione a questo momento difficile ascoltiamo il tecnico Vivarini stiamo sempre giocando a tre quindi non c'è non è questo il problema il problema secondo me è da analizzare sotto altri aspetti e abbiamo una squadra che a livello mentale è da analizzare è da studiare attentamente perché noi diamo tantissimo in ogni partita secondo me facciamo degli errori proprio per la troppa voglia di dare abbiamo fatto degli errori tattici sul primo gol all'Ia Rimini e quindi lì ci dobbiamo lavorare e poi sul secondo gol abbiamo fatto degli errori proprio mentali di ricomposizione di attenzione di cale di tensione che sono le cose che più ci hanno penalizzato in questo campionato fino adesso abbiamo preso sempre dei gol veramente evitabili proprio c'è proprio con delle amnesie con dei cali di attenzione di concentrazione dovuti sicuramente a tanti aspetti che abbiamo dovuto subire e quindi penso che un momento così difficile ci possa dare quella continuità di attenzione quella cattiveria giusta per non avere più queste disattenzioni in campo speranza ha avuto una lesione di un tendine quindi è un infortunio molto molto particolare perché non accade molto molto spesso e sta andando molto bene perché comunque adesso si allena sul campo con un lavoro differenziato e chiaro che per domenica bisogna valutare i rischi di ricadute quindi bisogna andare molto cauti Andiamo avanti con il giornale restando sempre alla Lega Pro parliamo dell'Aquila torna Triarico Perrone valuta l'utilizzo del croato Milicevic domani contro il Prato in serie di Chieti parte la rivoluzione 10 calciatori sul mercato intanto Angelini ha lagato come abbiamo visto rinviata al 9 dicembre la gara di domani con la Folgore Veregra oggi l'anticipo della serie di San Nicolò Amiternina Giulianova invece preso Mancini rapidamente andiamo al calcio a 5 di serie A il derby in Corona il Pescara di Colini gli ex fanno la differenza Borruto e Sultanze in faccia a Bellarte e Cuzzolino mandano al tappeto l'acqua e sapone domani in campo alle 18 c'è la capolista Monte Silvano invece a questa sapone e pescara è finita 2 a 3 andiamo al basket di serie A2 domani in campo Moreno è ora di volare l'Italo Cubano carica la McEnergy Chieti ore 16 contro Treviso dell'ex Ancelotti è tutto per quanto riguarda mattino 6 grazie per averci seguito fino ad ora e vi ricordo le prossime edizioni del telegiornale alle 14 alle 19 poi come sempre per seguire il calcio c'è diretta stadio in particolare fare i puntati sulla partita delle biondi del Lanciano contro il Latina e per quanto mi riguarda è tutto grazie ancora per essere stati con noi buona giornata e buon sabato grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti